amici di milan.soccer eccoci 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 stiamo per concludere anche questa partita il milan mancano due minuti e 1 a 0 facciamo già un'analisi di questo incontro al di là del risultato perché ci sono alcune cose che vanno dette e vanno fatte notare allora da non crederci da non crederci l'avete vista la copertina che significa significa che non possiamo credere che questa possa essere nella squadra che possa ambire per il prossimo futuro a qualcosa di più importante in campionato e figuriamoci per quanto concerne l'europa league spero vivamente di sbagliarmi perché come dicevo nei video scorsi da questo momento considerando i punti che abbiamo di vantaggio sulla sesta se dunque la quinta il quinto posto è valido per il la champions league beh adesso testa a praga e testa e cuore fino al raggiungimento di un obiettivo che è il 22 maggio a dublino come facciamo a non crederci certo che nemmeno io sono così convinto ci mancherebbe altro comunque ventottesima giornata partita importante assalto al secondo posto quando mancano 30 secondi entra da lì così un altro cambio per me incomprensibile si inizia con alcune scelte che avevamo anticipato in particolare la scelta di pulisic che non riposa per ciucuese ma poi quando è entrato ciucuese insomma si è capito perché non l'ha fatto riposare perché per me ciucuese veramente inguardabile pulisic sette gol sei assist e dunque dobbiamo iniziare a tirare le somme di questa stagione è una di queste che l'investimento così importante per un giocatore come ciucuese non è un errore è un errore grave gioca ocaforra che non ha demeritato sulla fascia sinistra con 19 presenze solo tre da titolare questi sono i dati prima dell'incontro milanempoli di oggi 5 gol l'80 per cento da subentrante jovic 17 presenze gioca titolare 5 gol 4 con girù in campo l'80 per cento dei gol da subentrante gol pesanti lo sappiamo fatemi sottolineare il premio dato a teo per il come miglior difensore negli ultimi cinque anni per gol e assist dei cinque migliori campionati europei e le 250 partite con il milan di calabria che a dirla tutta non ha fatto benissimo non posso crederci che questa squadra si trovi come così in alto cioè dobbiamo rivedere molte cose intanto sono quattro minuti di recupero sono andato se ne andato già il primo tre minuti ancora il milan è in avanti con ciucuese che fa sempre la stessa cosa passeggia fino al centro campo e poi la manda verso il portiere lasciamo perdere ha parlato scaroni e anche questa è stata una cosa abbastanza divertente perché tre domande futuro di pioli nuovi soci arabi e stadio futuro di pioli dice ha già detto bene zlatan ibrahimovic è solamente un tormentone mediatico siamo contenti di pioli va bene così per quanto riguarda il fondo arabo ha detto bene furlani quindi lui non ha idee parla per che hanno già detto altri furlani dice che non c'è nulla di vero si smentiscono tra di loro perché lo stesso proprietario redbird gerry cardinale aveva detto che comunque il milan è alla ricerca di soci quindi c'è confusione in campo e c'è confusione fuori dal campo sullo stadio glissiamo perché prima dice portiamo avanti san donato però poi dice perché abbiamo speso anche 40 milioni e poi dice se il sindaco vuole fare un ultimo tentativo aspettiamo giugno per capire cosa dirà we build comunque milan empoli 31 partite 19 vittorie milan manca pochi secondi sarebbe non lo dico 19 vittorie prima di questa 9 pareggie 3 vittorie dell'empoli mila scende in campo con girù calabria ciao tomori teo hernandez benasser pulisic loftus chic okafor e jovic nel primo tempo solo il milan 73 per cento di possesso palla e poi mi sono piaciuti pulisic sava sandir come dicono i francesi e okafor poi ad un certo punto c'è un piccolo turnover 62 esimo entrano in campo musà calolù e ciucuese musà per reinders reinders che non accende la luce quando andrebbe accesa calolù per tomori e il suo diciamo rientro e ciucuese per pulisic che evidentemente abbassa e di tanto il livello qualitativo della partita al 72 esimo entra girù per jovic jovic che dal primo minuto non sembra non sembra incidere ma il milan non gioca per la prima punta bisogna che lui il gol se lo vada a cercare ciucuese 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 palla indietro mi ricorda un giocatore che avevamo non so vabbè adesso non lo dico se no magari voi però l'avete capito era un terzino sinistro poi andato al torino ancora ancora ciucuese che mi potesse smentire tutta la vita bellissimo tiro bravo ciucuese grazie allora ti dirò sempre che non sei all'altezza così bella mina ragazzi che parata migliore in campo il portiere dell'empoli questo è veramente un bel tiro comunque abbiamo detto e poi faremo un'analisi un po più approfondita nel video nel video nel video seguente soprattutto perché abbiamo da parlare di una novità una novità importante e la novità si chiama jovin kirovski chi è jovin kirovski qualcuno già lo sa molti che seguono in maniera un po più blanda intanto finisce la partita sapranno avranno letto ma noi così ci siamo voluti informare su quella che è la sua carriera io in questo momento ho solamente un timore che sia l'ennesima sperimentazione di un laboratorio milan che non ha però un programma chiaro perché le dichiarazioni pre partita del presidente sono dichiarazioni perdenti per me cioè non sono quelle di chi vuol caricare il mondo milan di chi merita i tifosi che sono stati tanti sotto il diluvio universale e che sono stati tantissimi nonostante che siamo ben lontani dal primo posto io personalmente del secondo posto non mi accontento certo che mi accontento vedendo questa squadra però non ci posso credere non non da non crederci davvero che siamo riusciti a costruire una squadra che in un momento cruciale come questo e con tutti gli effettivi a questo punto a disposizione faccia un 1 a 0 rischiando con il colpo di testa di mattia mattia destro che poteva tranquillamente andare a pareggiare all'ottantanovesimo non riusciamo a chiuderla non abbiamo attaccanti che possano incidere io personalmente mi prendo i tre punti mi prendo non so se il secondo posto giù di lì comunque ce la stiamo battendo aspettiamo cosa succederà con la partita juventus atalanta però oggettivamente mi sembra che ci sia molto da fare chiudo per l'ennesima volta dicendo i conti li faremo davvero alla fine perché ora è una cosa troppo importante andare il 22 maggio a dublino ci sentiamo più tardi ciao